blitz a cazzo duro vecchio allora la prima partita giustamente riscaldamento appinnacolata facile ciao bello lì ho visto quello c'ha già un pompa mi scoppia la famiglia ok ok prossima dato che prima siamo andati appinnacoli questo è il momento di andare a corso commercio anzi l'andere tali quello c'ha già un pompa sarebbe bello ucciderlo ha funzionato prendiamo tutto prendiamo la jump prendiamo le mini una ok stiamo andando una bomba oggi eh e dopo questo alto livello di gameplay andrei a corso commercio a tentare la fortuna nella terza partita no? dai ti prego subito un'arma buona no no è finita ma una bomba il jetpack si ok è feridissimo sto trollato ho trollato mamma mia ho trollato malissimo non so perché ma è partito un'arma a casa mo tocca sta attenti adesso è quel momento in cui stanno tutti nei cespugli a me non piace sta in una posizione scomoda non so non so ma ma cazzo cazzo ho trollato quanto mi sono arrugginito su sto gioco da quando tutti sono diventati dei fenomeni io sono diventato un pippone sono così in troll mode oggi guarda poi in teoria pompa pozzetta air blu se dovrebbe stare una crema se dovrebbe stare una crema perché non pesco un altro ok siamo anche in zona in teoria stiamo anche belli centrali oh diciassette non mi pare il caso capirai guarda che silenzio però senza sniper ma che gli dico a me non mi fate fammi il fortino senza lo sniper ce n'ho uno qua non mi pare Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Ragazzi. Ok. 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 Ha aperto la porta. Ok. Ho chiuso la porta. Ma merda. Ora no. Quello lì sparava un essere però. Desidero sapere la location precisa dell'altro tizio. Sono un coglione. Va bene. No. 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 Ok. Siamo morti. Invece l'ho outplayato. Poteva andare molto peggio questa start. Poi poteva andare molto meglio. Ad esempio non perdere quella vita perché ho trollato tre colpi. Sarebbe stata un'idea migliore. Non abbiamo molto materiale ma in realtà non ce ne sbaglio. Cazzo. Perché facciamo stuc, 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 stuc. Pieni di materiale. Quindi. Di sotto potrebbe esserci una cassa con dentro una pozza gigante. E noi andiamo belli puliti. A cento di scudo. Tranquilli. Così almeno che la situazione si risolve. Perfetto. C'è un motivo se mi chiamano nostra Zanus. Ma che? Che cazzo fa col carrello? Ma è matto. Dai che promette bene sta partita. Sono un coglione. Ha tirato dritto. Bene. Con la ticola sto cominciando a fare schifo. Stanno costruendo come padre eterno. Io non voglio più avere a che fare in quella roba. Eh? Ma chi è il mago Silvan? Bella. Eh? Ma chi è il mago Silvan? Bella. Ragazzi. Sparatevi. Ah. Ah. Mi piace il cazzo. Il cazzo. Il cazzo. è finito. E' finito. E' finito? Noo. per averlo seguito sono un pippone lascia like se ti sei divertito almeno spero di sì è il mio lavoro divertire gli altri non essere bravo al videogame ci vediamo al prossimo video ciao